C'è sempre una prima volta, questa è la prima volta di un esponente del Movimento 5 Stelle in uno studio di telegiornale. Non è un esponente qualsiasi, ma il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio. Buonasera. Buonasera, direttore. Allora, lei ha 26 anni, quindi è giovane. Però le faccio una domanda da navigato politico. Siete sotto pressione, questo è evidente. C'è qualche colpa vostra? Io credo che ci debba essere dato atto di cosa facciamo in Parlamento ogni giorno e di come ci comportiamo. E può chiedere a chiunque la forza politica che in Parlamento è sempre composta, studia, passa ore lì dentro a lavorare. Peccato può essere anche di inesperienza. Quello che sta succedendo in questi giorni è un fatto gravissimo che non può avere giustificazioni invece. E quindi non può assolutamente, non si può pensare che ci siano delle colpe se non per i colpevoli di questo reato. Noi in questi giorni abbiamo subito furti, abbiamo subito, sono state trafugate queste mail e tra l'altro siamo molto preoccupati perché stiamo mettendo a repentaglio la sicurezza di tanti cittadini che ogni giorno ci scrivono notizie, informazioni molto delicate e chiedono l'anonimato anche su fatti di criminalità organizzata. Cioè dicono ci fidiamo di voi, denunciamo questa cosa e se viene messo in pubblico viene messo a repentaglio la loro... Noi stiamo esponendo persone che magari ci danno delle informazioni per avviare appunto delle nostre verifiche e poi cominciare a portare questi problemi nelle istituzioni. E non per fare i dietrologi, ma in Italia tutti fanno i dietrologi. Abbiamo visto che ci ha lasciato politicamente le penne il professor Becchi che vi era, è inutile negarlo, molto vicino però appunto a furia di pensare, di dire quello che può succedere. Ma io su questo dissento, nel senso non esiste scomunica perché il professor Becchi è libero di dire quello che vuole però parla per sé e soprattutto il termine ideologo come il termine a volte che viene dato a qualcuno di noi di esponente di punta. Sono dei termini che magari molto spesso sono giornalistici ma in realtà noi non attribuiamo a nessuno. Però insomma, non ti devo negare che quando si doveva cercare un uomo al di fuori del vostro movimento che fosse rappresentativo e voi stessi avete utilizzato le sue idee per dire le camere devono cominciare a lavorare anche se non c'è un nuovo governo. Ma lui più che altro sosteneva la nostra tesi in Parlamento che abbiamo maturato stando lì in quei giorni. E' stato lui a copiare voi? No, non a copiare ma a sostenere che è un'altra cosa, è un costituzionalista e avallava la nostra ipotesi di far iniziare il lavoro legislativo del Parlamento. Ecco, la cosa però che adesso le voglio chiedere appunto, non siamo dietrologi a tutti i costi ma secondo voi dietro a questa cosa c'è qualcosa? Dietro agli hacker? Ma noi stiamo chiedendo di scoprire tutto. Quello che stiamo cercando di chiedere e anche per questo oggi abbiamo fatto questa conferenza stampa è che vengono individuati i colpevoli responsabili di questo reato ed è per questo che ci aspettiamo di avere una risposta. La stessa domanda che si fa a lei è legittima ma aspettiamo una risposta dalle autorità che stanno indagando. Lei si è fatto un'idea? No, io personalmente non mi sono fatto un'idea da dietrologia perché poi potrebbe iniziare ad essere pesante. Noi capiamo che questo è sicuramente un gesto intimidatorio però devo dare atto a tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle e anche Giulia Sarti a cui va la mia solidarietà per quello che ha subito in questi giorni di aver reagito benissimo e stanno lavorando più di prima. E se fosse successo a esponenti di un altro movimento politico o di un'altra forza politica ci sarebbe stata una reazione diversa? Ma noi denunciamo questo. Ci saremmo aspettati qualche comunicato ufficiale da qualche altra forza politica. Abbiamo avuto sparute manifestazioni di solidarietà da alcuni singoli deputati e senatori ma le forze politiche... Oltre al Quirinale, no? Sì, no, no. Io parlo di forze politiche in Parlamento oltre che dal Quirinale dalla Presidente Boldrini a cui va la solidarietà per quello che è successo e che ha denunciato oggi. Però è chiaro che se fosse uscita fuori la casella di posta di Brunetto o di Bersani non sarebbe andata così. Da quel punto di vista... No, dal punto di vista del clamore mediatico che ha fatto questa notizia, nient'altro. Senta, voi vi portate dietro sempre la stessa accusa o idea che avete sbagliato a non dare sponda nella campagna presidenziale, nella ricerca di un governo al PD che ve la sollecitava. Col senno di poi più convinto che mai? Ma assolutamente. Tra l'altro il problema principale è che l'elezione del Presidente della Repubblica ha dimostrato che il PD non è un partito affidabile dal punto di vista della compattezza e quindi anche se avessimo voluto dare la fiducia al governo Bersani o chi per esso poi dopo ci saremmo trovati in serie difficoltà sull'approvazione dei testi di legge perché le varie correnti lì vanno un po' ognuna per sé. Lei è uno su uno rappresenta solo se stesso o stasera rappresenta il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle? Io sono un esponente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Per capire come funziona. Grazie Luigi Di Maio ho l'impressione che ci rivedremo abbiamo fatto tardi ma ne valeva la pena. Dopo di noi c'è Lilli Gruber con una persona che voi volevate al Quirinale con Stefano Rodotà.